Sono freddi, ma è un po' particolare. Clicchiamo quale sono queste parti e poi ci sono... Katakanaga Hai già, stanza Watashi wa Katakanaga Che significa? Se non sapete di una professione? O come si dice in spagnolo? Si ferma qui davanti alla stazione Ma può prendere anche il 67 e molti altri Bene, grazie Ma dove...